Questo è l'imprendi promotore, quando il consulente finanziario diventa imprenditore. Quanto impatta il ruolo del consulente finanziario nella vita dei propri clienti? Come evitare che il tuo marketing, in questo momento, venga percepito come solamente interessato a te e a far crescere il tuo business? In un momento difficile come quello che stiamo vivendo da alcune settimane, quanto è importante donare? Scopri le strategie più efficaci per poter migliorare il tuo business e la tua impresa di consulente finanziario. Questo è l'imprendi promotore con Enrico Florentino. Ciao e grazie per aver deciso quest'oggi di stare in mia compagnia ascoltando la puntata numero 73 dell'imprendi promotore podcast. Io sono Enrico Florentino e voglio aiutarti a migliorare la tua impresa di consulenza finanziaria. Prima di cominciare questo episodio, prenditi un momento per iscriverti a questo podcast e se ti va, lascia una recensione. Questa puntata dell'imprendi promotore podcast è offerta da GAM Investments. GAM Investments, la società di gestione patrimoniale indipendente globale creata da investitori per investitori. Rimani aggiornato sulle ultime novità visitando www.imprendipromotore.it. Ritorno a trattare con grande piacere un tema a me caro, il donare. Più passa il tempo, più vivo la condizione di imprenditore, più mi rendo conto che il dono è la chiave di volta sulla quale costruire il proprio business. Lo so che a molti questa cosa potrà suonare strana, controintuitiva, ma se ci pensi, non c'è imprenditore di successo, successo, consulente finanziario di successo, che non abbia interiorizzato questo valore importantissimo. In un momento delicato e nel contempo anche complicato, come quello che stiamo vivendo da un po' di settimane a questa parte, ciò che ho potuto notare è che dove c'è stato il dono ci sono state emozioni e anche molti risultati. Nella puntata di oggi dell'Imprendi Promotore Podcast ho voluto approfondire il tema. Il periodo molto delicato che stiamo vivendo credo richieda la capacità di mantenere i nervi saldi, ma soprattutto avere la consapevolezza di quale grande impatto il lavoro di consulente finanziario ha nella vita di ogni cliente, di ogni persona. Allora, i giorni legati a questo blocco anche dell'intera economia, almeno qui al nord, mi ha comunque fatto riflettere su una serie di cose. Probabilmente in questa vita anche convulsa, fatta di ricorse a destra e a manca, il blocco di tutte quelle che sono le attività ha obbligato tantissimi di noi a fare una serie di riflessioni, anche tutto sommato a vivere delle giornate un po' diverse dal solito. Infatti sembrava di essere in una sorta di vacanza forzata dove alla fine si sono riscoperte cose che magari prima erano riservate solo al weekend, talvolta neanche a quello, e che hanno permesso poi di fare una serie di riflessioni. Mi hanno permesso di fare una serie di riflessioni. E la prima riflessione che voglio farti in questa puntata di podcast, ho realizzato improvvisamente una cosa, ovvero che di quanto ciascuno di noi abbia alla fine bisogno degli altri. Certe volte ci troviamo anche a desiderare di stare soli, magari anche a desiderare talune volte di portarci a casa tutto quello che potremmo portarci a casa individualmente. Devo dire che questa è un'epoca che sempre di più ha messo al centro l'individuo, nel bene e nel male. Però quanto è accaduto proprio a causa del coronavirus, improvvisamente ci ha fatto realizzare quanto abbiamo bisogno appunto degli altri. Dedichiamo veramente molto tempo al portare avanti i nostri progetti, a realizzare i nostri sogni. Ma un momento drammatico come quello che abbiamo vissuto credo ci abbia reso improvvisamente consapevoli che senza gli altri, senza degli altri esseri umani a cui dedicare il nostro tempo, le nostre energie, la nostra amicizia, tutto perde letteralmente di significato. E quanto è accaduto appunto in queste ultime settimane mi ha fatto riflettere sull'importanza che una figura come quella del consulente finanziario ha nella vita delle persone che il consulente finanziario va a servire. E questa è una cosa che mi ha portato anche a registrare questa puntata del podcast un'altra puntata dedicata appunto al tema, al tema del dono. Sarà perché tra l'altro il consulente finanziario ha a che fare con un argomento, il denaro, che, lo dico sempre, con i figli e con la salute crea più emozioni nelle persone. Perché? Perché comunque legato al denaro ci sono due sentimenti ambivalenti e opposti tra loro. Uno è legato alla sopravvivenza e l'altro invece è legato anche per certi versi all'avidità. E queste cose alla fine non rendono semplice il lavoro del consulente finanziario anche se io ritengo lo rendano assolutamente indispensabile maggior ragione in un momento come questo perché un cliente che magari si occupa di altro nella vita sicuramente avere a che fare con una persona che possa fargli da mentore che possa essere una luce, un punto di riferimento credo sia quantomeno una necessità che la persona ha e dalla quale appunto non possa prescindere. Questa cosa mi ha portato anche a fare un'ulteriore riflessione. La riflessione è legata anche alle tante iniziative di cosiddetto instant marketing che ho avuto modo di poter registrare anche in questi giorni. Talune e becere, non ho altri termini per definirle, dove alla fine alcune aziende, alcune imprese, alcuni soggetti, anche persone che fanno il mio lavoro, non hanno tardato immediatamente a cercare di sfruttare o di cavalcare il tema del coronavirus, il fatto anche del blocco a casa di tante persone nel cercare di vendere loro un qualcosa che potesse essere, diciamo, alla fine a vantaggio di chi vendeva più che a un reale vantaggio di chi acquistava. E questa cosa qui mi ha lasciato veramente perplesso. Dall'altra parte, invece, ho avuto modo di notare che ci sono state invece imprese, aziende, imprenditori, anche consulenti finanziari, che hanno deciso invece di far sì che il coronavirus potesse offrire loro l'opportunità di donare la loro competenza, i loro servizi, i loro prodotti agli altri, proprio anche per alleviare un certo, una certa anche solitudine, un momento anche sicuramente di difficoltà legata appunto alla quarantena e al virus. Mi ha colpito in particolar modo durante questi giorni un articolo che è apparso proprio su Repubblica di una farmacia di Milano che offriva della mucchina fatta da loro, perché tra l'altro era completamente sparita dalla circolazione a causa proprio dell'incetta che le persone hanno fatto per cercare di difendersi anche da questo potenziale contagio. Mi ha appunto colpito questa notizia di questa farmacia di Milano che offriva questa mucchina fatta da loro. E mi ha colpito perché indubbiamente era un'operazione di instant marketing, ma era un'operazione di instant marketing basata proprio sul dono. Altrettanto ha fatto una catena di pizzerie qui a Milano dove si è resa disponibile a offrire o a donare per esempio al personale ospedaliero che sappiamo è stato fortemente sotto pressione proprio per l'emergenza coronavirus e di andare ad offrire delle pizze gratuitamente. Qualcuno dirà, eh sì, è facile fare questa cosa qui e mettersi in vista, però tant'è che queste persone o questi imprenditori o queste imprese l'hanno fatto e l'hanno fatto mettendosi in gioco e l'hanno fatto attraverso un elemento che è appunto quello del dono che credo che mai come in questo momento possa realmente fare la differenza. Ho voluto proprio riprendere anche attraverso questa puntata di questo podcast intitolata Quando il dono può aiutarti a far crescere il tuo business e ho voluto proprio riprendere il tema del cosiddetto gratitude marketing a cui avevo peraltro già dedicato una puntata, la numero 45, che ti invito anche ad ascoltare, che era proprio dedicata a questo marketing della gratitudine e devo dire che quando c'è di mezzo il dono c'è poco da fare qualsiasi cosa viene percepita nel modo corretto non puzza, parliamoci chiaro, di becero sciacallaggio, di appropriazione indebita, di speculazione sulla vita delle altre persone, basti pensare al prezzo delle mascherine o delle confezioni di ammucchina e di quanto sono andate su di prezzo, l'abbiamo visto in maniera scandalosa devo dire in questi giorni, ma soprattutto perché il dono, credo, purifica, va a lavare, rende trasparente qualsiasi azione di marketing perché, semplice, prova a pensarci, il dono mette al centro non chi compie l'azione ma a chi è destinata l'azione, la gratuità. Tra l'altro le neuroscienze lo dicono chiaramente ovviamente donare c'è poco da fare, fa stare molto ma molto bene mette in circolo tutte quelle sostanze biochimiche che ci fanno stare bene, che ci fanno sentire bene e che fanno stare bene anche le altre persone. Quindi un piccolo remind che mi sento di farti, un piccolo memo ed è questo, se dovessi fare dell'instant marketing non dimenticare di impostare qualsiasi tua azione basandola sul dono, sulla gratuità. C'è una frase di Martin Luther King che porto sempre con me nei miei appunti, delle citazioni che mi hanno colpito ed era questa la domanda più urgente della vita è cosa fai per gli altri e a questo punto mi sento di rivolgere a te questa domanda a te professionista prova a chiederti ma stai dando abbastanza? Stai dando tutto te stesso ai potenziali clienti e ai clienti assicurandoti di fare davvero la differenza nella loro vita? Questa è una domanda che spesso e volentieri rivolgo a me stesso rivolgo a me stesso e che specialmente da quando faccio l'imprenditore mi rivolgo quotidianamente mi rivolgo quotidianamente perché la sera mi aiuta tantissimo a fare una specie di bilancio di esami di coscienza chiamiamolo come vuoi ma mi aiuta anche a capire a comprendere quanto ogni giorno se impiegato proficuamente nel donare possa veramente dare quel piccolo contributo al miglioramento della situazione dell'umanità al contrario provo anche a chiederti in maniera molto franca un'altra domanda stai semplicemente se no tirando avanti facendo lo stretto necessario e niente di più se così fosse credo che a questo punto ti dovrei fare un'ulteriore domanda ovvero il mestiere la professione che stai esercitando è ciò che effettivamente desideri fare? mi permetto di suggerirti questo interrogativo perché i clienti credimi si accorgono immediatamente se lo stai facendo per vivere o per sopravvivere oppure se al contrario ed è ciò che mi auguro per te tu stia facendo ciò che stai facendo per vera passione e a tal proposito una risposta che puoi immediatamente ottenere è appunto quella di osservare che cosa stai ottenendo dalla tua attività alla fine della tua giornata lavorativa sei soddisfatto di ciò che hai fatto di ciò che hai ottenuto e soprattutto di ciò che sei stato in grado di poter generare negli altri sei andato oltre quella che è una mera assistenza il minimo sindacale legato appunto all'assistere i tuoi clienti i tuoi potenziali clienti ti dico questo perché se non fossi completamente soddisfatto delle risposte che ti sei dato allora forse è arrivato il momento di rivedere il tuo modo di condurre la professione non ti sto invitando a cambiarla anche se devo dirti che quattro anni fa quando è stato il momento di lasciare la mia carriera manageriale per fare un salto un triplo salto mortale con doppio avvitamento quale appunto quello di fare l'imprenditore di partire letteralmente da zero in qualche modo le domande che mi facevano era appunto questa se ero felice se stavo evidentemente producendo il giusto impatto nei confronti delle persone che coordinavo quando tu non fossi completamente soddisfatto delle risposte che ti sei dato allora probabilmente potresti cominciare a chiederti in che modo differente potresti svolgere la tua professione il tuo lavoro io credo che nessuno dico nessuno a maggior ragione i clienti sarebbero contenti di farsi curare i loro investimenti esattamente come tu come potrebbe essere potrebbe fare un medico nel momento in cui cura un paziente la salute di un paziente sicuramente ciascuno di noi preferirebbe avere un medico appassionato dove la passione per ciò che fa è la prima cosa anziché semplicemente essere un lavoro uno dei tanti lavori vale anche se te lo ricordi quando tu dovessi pensare per esempio agli insegnanti che hai incontrato nella tua vita di studente probabilmente ti ricorderai solo quelli che erano in grado di trasferirti passione magari erano anche gli insegnanti più duri da questo punto di vista ma che probabilmente attraverso la loro durezza e il loro essere giusti in realtà esercitavano la loro passione ma soprattutto nel donare nel forse pretendere da te di mettere a frutto al massimo quelli che erano i tuoi talenti e le tue e le tue potenzialità io credo che tutto ciò che ciascuno di noi fa a maggior ragione se sei e ti sente un imprenditore passi attraverso la generazione di valore per i clienti ma a questo punto la domanda che un'altra domanda che ti suggerisco di farti è proprio questa dove può dove puoi anche dove puoi un consulente finanziario dove puoi tu generare valore per i tuoi clienti allora ho individuato tre elementi che se donati da te consulente finanziario i tuoi clienti potranno generare del valore voglio elencarteli perché sono esattamente gli stessi identici elementi gli stessi identici valori che donati da me a te che fai il consulente finanziario spero impattino nella tua vita nella tua vita professionale ma soprattutto poi nel donarti questo mi fanno stare molto bene il primo il primo elemento il primo elemento il primo valore che mi sento di suggerirti di donare appunto il tuo tempo attenzione il tempo è una risorsa molto molto scarsa per questo io credo vada donato innanzitutto attraverso quelle attività che veramente sono in grado di avere impatto nella vita dei clienti come avrei capito il miglior tempo che tu possa donare è proprio quello di stare di fronte ai clienti che molto spesso mi capita di osservare esattamente il contrario di quanto accade nella vita professionale dei consulenti li vedo troppo spesso in ufficio e troppo poco dai clienti e questo la dice lunga su quanti svolgano la professione perché realmente questa cosa li appassiona e quindi sono appassionati nello stare con le persone sono appassionati nell'incidere sulla vita delle persone rispetto a quanti invece stando in ufficio probabilmente adorano più il non donare ai clienti ma soprattutto il godere probabilmente di anche un ritorno economico importante perché non dimentichiamolo che questa è una professione che ancora per unità di sforzo profusa dà ritorni economici importanti ma che però in realtà quanto potrà andare avanti una professione svolta in questo modo io ritengo molto molto poco per questo credo che sia necessario che tu debba mettere mano prima di tutto alla tua organizzazione perché perché per poter stare di fronte ai clienti e donare loro il tempo devi necessariamente cominciare a delegare alcune cose che parliamoci chiaro oggi tu stai svolgendo ma che sono svolte da te ad un prezzo per la tua impresa troppo elevato oggi delegare le cose che potrebbero essere svolte da un collaboratore credo sia un must per un consulente finanziario che voglia realmente donare il proprio tempo e soprattutto voglia far crescere il proprio business chiediti sempre la cosa che stai facendo se venisse remunerata al tuo costo orario e dovessi remunerare un'altra persona al costo orario che oggi tu hai saresti disposto a farlo un consulente finanziario lo dico sempre che ricavi e fatturi circa 100.000 euro all'ora all'anno ha un costo orario di 100 euro 104 euro per la precisione lo scrivo anche nel mio libro la domanda che mi faccio è compilare un modulo saresti disposto a sostenere questo costo ovvero il 100 euro l'ora pagando un assistente probabilmente no allora perché dovresti remunerarti in questo modo con un valore così alto a livello orario ecco questo è il tema centrale donare del tempo vuol dire riservare del tempo ad attività che hanno un alto ritorno sull'investimento che guarda caso hanno anche un alto ritorno per i clienti ovvero stare con loro questo è il primo elemento che credo tu possa fare per cominciare a donare e ad avere impatto importante sulle persone il secondo elemento è donare la tua energia attenzione io credo che l'energia sia direttamente connessa a quelle che sono le emozioni ma com'è possibile donare energia e soprattutto com'è possibile donarla sul lavoro ma anche nella vita privata e io credo che l'ho potuto osservare in 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 tanti consulenti finanziari che per esempio hanno successo anche nella vita successo inteso come la capacità di raggiungere risultati è proprio legata a doppio filo all'impegno che questi hanno nel donare energia per esempio ad attività filantropiche ad impegnarsi per esempio nell'associazionismo ecco credo che questo sia un modo stupendo per poter donare energie energie che poi attenzione vengono ricambiate dal contesto in cui noi andiamo a donare energie ed è incredibile quanto l'impegno civico per esempio che è una prerogativa di quei consulenti che io ritengo persone straordinarie poi venga ricambiato in termini di energie e l'infaticabilità che hanno queste persone è proprio legata al fatto di questo scambio di questa osmosi di questo scambio continuo nel dare e nel ricevere nel dare e nel ricevere energie il terzo dono è legato all'integrità donare la propria integrità trattando una materia come quella del denaro a cui sono collegati appunto come dicevo all'inizio di questa puntata due sentimenti opposti tra loro la sopravvivenza e l'avidità credo che l'integrità come valore debba essere moltiplicato per dieci dal consulente finanziario questo che cosa vuol dire come si traduce donare la propria integrità ma io credo che sia innanzitutto il cominciare a dire la verità anche quando ciò potrebbe rendere la conversazione con i tuoi clienti impegnativa addirittura rischiosa nel come dire mettere a rischio anche la relazione con i clienti spiegare ogni dettaglio ogni beneficio ogni rischio che il cliente va correndo credo sia un dovere e un dono importantissimo da offrire ai clienti educarli educarli dal punto di vista finanziario raccontare loro per filo e per segno anche quelli che sono i costi che vanno sostenendo questo è un qualcosa che alla lunga sarà sicuramente avrà la capacità consentimelo di darti dei ritorni veramente importanti ecco credo che questi tre elementi il donare il tempo il donare la propria energia il donare la propria integrità siano le caratteristiche che da oggi in poi anche alla luce di quanto è accaduto potranno realmente fare la differenza tra un consulente finanziario ordinario e un consulente finanziario straordinario di questo io ne sono veramente veramente convinto la puntata di oggi dell'imprenditore promotore podcast mi auguro ti abbia fatto comprendere l'importanza del dono come veicolo per impattare nella vita dei tuoi clienti e delle persone a te vicine svolgere un'attività così delicata legata ad uno degli argomenti che creano più emozioni nelle persone mi rendo conto sia difficile e sfidante ma è proprio perché la difficoltà e la sfida sono grandi che si determina l'importanza di una professione come quella del consulente finanziario Churchill diceva sempre che a grande responsabilità corrisponde grande fama la grandezza ed è proprio per questo che credo che sia molto molto importante cominciare a concepire anche la propria professione alla luce di questo filtro che è quello del dono che è proprio l'elemento che più di altri è in grado di farti fare balzi importanti voglio ringraziare in chiusura Fabio Cassone che mi ha lasciato una bellissima recensione su Spreaker una recensione legata alla puntata dedicata al cosa fare quando non sai cosa fare ed è appunto questa Fabio scrive questo episodio mi è piaciuto molto per la capacità concreta di analizzare una delle tematiche quotidiane che riguardano la mia attività di consulente io non posso che ringraziarti Fabio per la recensione mi ha fatto molto piacere che questa puntata ti sia stata utile per ringraziarti ancora per avermi ascoltato fin qui ti invito se la puntata ti è piaciuta a lasciarmi una recensione su Apple Podcast non sai come fare vai su www.imprendipromotore.it slash podcast e troverai tutte le istruzioni per potermi lasciare una recensione direttamente su Apple Podcast che è la più importante piattaforma dedicata ai podcast sarà veramente un piacere per me poterla leggere e ringraziarti all'interno della puntata dell'Imprendi Promotore Podcast esattamente come ho fatto questo oggi nei confronti di Fabio inoltre voglio ricordarti che l'Imprendi Promotore Podcast lo puoi anche ascoltare su Spotify basta cercare Imprendi Promotore fammi sapere che cosa ne pensi lasciandomi un tuo commento direttamente sulla pagina dove viene pubblicata questa puntata del podcast all'interno del blog dell'Imprendi Promotore oppure inviandomi direttamente un vocale su Telegram a chiocciola Enrico Florentino io sono Enrico Florentino e voglio aiutarti a migliorare la tua impresa di consulenza finanziaria ciao alla prossima puntata hai ascoltato l'Imprendi Promotore l'Imprendi Promotore